Mi chiamo Giorgio Busetto, dirigo il Master di sviluppo creativo e gestione delle attività culturali. Nella vita professionale dirigo la Fondazione per gli studi musicali Ugo e Olga Levi e insegno a Caposcari Management degli istituti culturali. Il Master intende fornire le competenze in grado di far cooperare culture umanistiche e gestionali. Il mondo delle produzioni culturali si è ormai esteso dalle strutture tradizionali, musei, archivi, biblioteche e così via, a contaminare mondi come turismo e consumo culturale. Questo Master è rivolto a chi intenda sviluppare competenze articolate che superino i tradizionali schemi del lavoro culturale nella direzione delle competenze gestionali. Il corso si sviluppa attraverso contenuti e pratiche professionali. Per maggiori informazioni consultate il sito della Caposcari Challenge School.